La rassegna stampa è stata offerta da I Sapori del Vallo, l'arte di fare la pasta. www.isaporidelvallo.it Buongiorno, ben ritrovati alla rassegna stampa di questo mercoledì 29 giugno. Una rassegna stampa che apriamo con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola, lo facciamo partendo dal mattino di Napoli. In primo piano sul mattino l'attacco terroristico in Turchia, terrore in aeroporto, 50 morti, nuova stragia di Istanbul, tre kamikaze sparano tra la folla e si fanno esplodere. La polizia c'è la mano dell'Isis, un comando di sette persone assalta lo scalo di Ataturk, un killer catturato, tre in fuga, nelle due esplosioni, anche decine di feriti. Per quanto riguarda invece la Brexit, Juncker duro con gli inglesi, il Parlamento europeo, Londra via subito, il Movimento 5 Stelle vota contro insieme con Farange. In taglio centrale, dopo le analisi, le vere ragioni, degli interessi dei leader deboli, se la caduta di Corby spegne la fiammata ideologica a sinistra e Bagnoli, no, area no tax, l'idea di Renzi per rilanciare il sud, luci ed ombre. C'è tanto spazio per la cronaca, i barbari sul web che inneggiano allo stupro, valanga di insulti sullo profilo Facebook della Selicenne violentata nel Salernitano. Per lo sport, Iguain, Gela e Napoli non rinnovo, il fratello resta fino al 2018 con la clausola attuale, non si prolunga. Questa era l'apertura del mattino, ma restiamo sul mattino e andiamo a leggere la pagina di Salerno e Provincia. In primo piano, la cronaca messa all'agonia dopo lo stupro, si parla proprio della Selicenne di San Valentino Torio, insulti alla vittima della violenza è stata lei a provocare. Familiari e amici aggrediscono e accusano sui social network, siete delle Selicenne, siete ignoranti, poi chiude il profilo. Scandalo al Ruggi, il medico all'attacco, io non ci sto, la protesta dell'infettivologo, la lettera aperta di Luigi Greco, siamo scudo di pochi disonesti. L'inchiesta, il branco sottotorcio, i PM restino in carcere, si torna sempre sulla vicenda dello stupro a San Valentino Torio, poi fonderie, sempre tensione, gli operai bloccano la strada, traffico in tilt a Via Roma, domani vertice al Ministero. Sitin davanti alla provincia, nessuno riceve i lavoratori, la rabbia, non ci rispettano. La scuola, docenti precari, graduatorie da riscrivere. Stavolta, le creditorie dei docenti precari, una raffica di sentenze emesse dal Consiglio di Stato e dal giudice del lavoro di Salerno, riscrive la lista degli insegnanti storici senza contratto a tempo indeterminato, che da decenni lavorano senza una cattedra fissa e con supplenze annuali. Poi il mercato Sansevedino, romano indagato, lascia il comune, accuse singolari. Per lo sport, inzaghi salernitana, contratto firmato nella notte, summit decisivo a Villa San Sebastiano, accordo per un solo anno. Questo era il mattino, continuiamo ora con la carrellata delle prime pagine, andiamo sulla città di Salerno, dopo lo stupro, gli attacchi social, Salerno, non solo solidarietà per la sedicenne, violentata dai cinque ragazzi. All'aeroporto di Stibullo è tentato, esplosione e spari sulla folla, decine di vittime, fonderie, sitine e tensioni, altri scontri in fabbrica, i familiari degli operai contro i comitati. Poi ancora, leggiamo, dopo la denuncia del titolare, alla Pellplast fu essorsione, chieste quattro condanne. Indaga la Capitanaria di Porto, una 41enne nega davanti a Lungomare, Tafuri, cavo a dei Tirreni, violenza su 14enne, identificato un secondo uomo, mentre per l'omicidio Vassallo spunta un'altra pista, nel mirino il clan Loreto, ridosso. Infine, comune, dipendenti all'osto, servizi a rischio, Salerno, vigili di gestione del verde, delle strade e delle fogne. Per lo sport, tutti pazzi, per il condottiero Antonio Conde, gli azzurri si avvicinano verso la sfida alla Germania. Questa era la prima pagina della città di Salerno, ora andiamo sulla pagina di Cronache del Salernitano, il vero piano dei Pisano, questo è il titolo di apertura, case, uffici e giardini. Le fonderie saranno smantellate per i lavoratori ieri in protesta part-time, non c'è futuro, Canfora li snobba e non li riceve. Affirmare il progetto è Donato Gerone, l'architetto che disegnò la rotonda di Salerno, trasformazione dell'area di Via dei Greci, costruzione di edifici e spazi per bambini. Ancora altre notizie, il Consiglio non approva il bilancio, San Severino ora arriva il commissario, il capogruppo PD Romano scappa dopo aver portato il Comune a fallimento, i grillini contestano maggioranza ed opposizione. San Valentino Torio e i bevi distrupatori credono di cavarsela con le solite scuse, dopo gli interrogatori in due confessano, un terzo sta collaborando, ma su Facebook i loro amici attaccano la povera ragazza, tanto che in serata le amiche postano un durissimo messaggio, oggi sarà ascoltato anche il quinto ragazzo coinvolto. Battipaglia, Fernando e Carlo, il ritorno degli Izzara, Castellammare, il Petito Cavaliere, nuove accuse ad Alessandro, torre annunziata di donna svidugiato, ora tocca al prefetto. Questa era l'apertura di cronache del Salernitano, andiamo avanti, andiamo sulla Nuova del Sud, il Claudiano Lucano, giunto anche oggi nella nostra redazione, si parla di, in primo piano, della questione Tempa Rossa, già in 70 sostituiti dai polacchi, Tempa Rossa la denuncia della CGL, operai stranieri pagati meno al posto dei lavoratori locali, e quanto starebbe accadendo, a scadenza di alcuni contratti, esposito all'espresso, non vogliamo una guerra fra poveri, ma. Morì dopo il parto tre indagati, Villa d'Agri coinvolti in una ginecologa, l'ex direttore è un dirigente dell'Asp, ex Luccioni, il direttore della clinica, spiega la mobilità dei lavoratori, c'è il progetto, ma la regione non risponde, Policoro, tragedia in spiagge, 35 anni nel posto, stroncato da un infarto in riva al mare, poi ancora il segretario PD sarà Renziano, Pittella conferma il rimpasto in due tempi, in mezzo il Nododem, la Franconi resta fino ad ottobre, Cifarelli e Pietratuono parlano da assessori, l'ANAS tranquillizza, la Brandanica si farà, l'ultimazione a carico del consorzio Iterga, poi ancora Matera Ferrandina, adesso scendono in campo i sindaci, in taglio basso, lavoro nero, nello agoneglese multa delle sette aziende per 43 mila euro, danni al parco del castello a Matera, dopo un concerto annuncia il comune, un giro di vite, Matera tra sacro e profano, il 2 luglio festa della Bruna, la partita della Germania in contemporanea, questa era l'apertura della Nuova del Sud, la carrellata però delle prime pagine, si chiude con Metropolis, il quotidiano partenopeo, nella sua edizione di Salerno e provincia, apre con il dramma delle fonderie Pisano, tensione alle stelle, investito in operaio, due bambini partecipano alla protesta in Via Roma, per la delegalizzazione, proposte pure Nocera e Buccino, lavoratori in strada, con le proprie famiglie, poi ancora scene dell'olore racchiuse nei video, le istituzioni politici mobili, da supporto economico, legale e psicologico, alla ragazza, compleanno surreale per la giovane, violentata dal branco, che ha compiuto ieri 16 anni, Salerno, un'altra vittima del mare, si tuffa ubriaco, trovato cadavere un quarantenne, poi sulla pena del Sele, leggiamo le altre notizie, botte da orbi tra due stranieri, caos e feriti, San Gregorio, l'inte tra pastori, 63enne, muore dopo due mesi, Giunghiano invece aveva 57 anni, l'uomo che cade dall'albero, e perde la vita, per la politica, Romano molla la fascia tricolore, sciolto il comune a Mercato San Severino, per lo sport Serie B, svolta nella notte, firma in Zaghi Junior, sarà il nuovo allenatore della Salernitana, da Salerno a Rio, un sogno in rosa, tre le atlete salernitane, che parteciperanno alle prossime Olimpiadi, infine, trasporti, aeroporto, coste da Malfi, debiti ripianati. Bene, questa è la prima pagina di Metropolis, prima di chiudere, diamo un attimo, un rapido sguardo, a quanto accaduto, per la cronaca internazionale, l'attacco kamikaze, avvenuto all'aeroporto, in Turchia, bene, sotto attacco, questo è il titolo di Metropolis, del mattino, scusate, Istanbul, strage in aeroporto, kamikaze in azione, 50 morti, commando di 7 persone, 3 in fuga, all'ombra dell'Isis, Obama subito informata, segue gli sviluppi, il preme Renzi, necessaria, una risposta forte e coesa, non è nazionale, nota la nazionalità delle vittime, la Farmenzina ha allestito, una unità di crisi, sempre sul tema, l'analisi, kurdi e califato, il doppio fronte di Ancara, Turchia impegnata in sede, contro il regime di Assad, e i nemici storici del PKK, usati calagini, combattere a detenere norissi, nello scalo di Atatürk, nella ferma immagine della TV, NTV, i soccorsi, una trentina di ambulanze, sul luogo dell'attentato, alcuni feriti, trasportati in taxi, ancora, leggiamo l'attesa, decine di persone sostano davanti all'aeroporto di Atatürk, aspettando notizie sui familiari, consiglio di sicurezza, compromesso all'ONU, Italia e Olanda, una poltrona per due, accordo dopo cinque votazioni, andate a vuoto, tra Amstrad e Roma, un anno ciascuno, questa era la pagina dedicata al tentato in Turchia, ebbene noi con questa pagina chiudiamo la prima parte della nostra rassegna stampa, ci vediamo dopo la pubblicità per la seconda parte. Seconda parte della rassegna stampa di questo mercoledì 29 giugno, una rassegna stampa che riapriamo con la lettura delle pagine interne dei quotidiani Oggi in Edicola, e lo facciamo attraverso le pagine della città di Salerno, che danno una nuova svolta, probabilmente sul caso dell'omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso nel 2010. Spunta una nuova pista, dice la città, c'è una traccia che lega la morte del sindaco di Pollica al clan Roleto Ridosso, il PM Rosa Volpe indaga sugli interessi del clan, nella zona di Acerori. Nell'articolo che lo leggiamo si legge che c'è un indizio al quale si cerca un riscontro che conduce dal Cilento a Scafati ai paesi vesuviani. Infatti nel gennaio scorso, ancora più in basso si legge, i magistrati della DDA hanno riprovato, sentite Bruno Umberto Damiani, il brasiliano arrestato dopo una lunga attitanza, che è l'unico indagato ufficiale, in un'inchiesta che pare abbia altri tre indiziati, e il pentimento di Alfonso Loreto, figlio del capo clan Loreto Ridosso, insieme con il padre Romolo Ridosso, con i figli di quest'ultimo, pare abbia riaperto le speranze di trovare nuovi indizi sulla morte del sindaco pescatore. Quindi, quali sono i legami di Scafati, stabilesi con l'uccisione rimasta nel mistero? Questi sono i particolari che restano riservatissimi in questo momento, l'attenzione degli inquirenti, e sugli affari del Ridosso, i legami che avevano, soprattutto in quel periodo, nel Cilento, e in particolare tra Casalvelino e Alciaroli. Questa dunque è una nuova pista per un caso di cronaca in cui dopo sei anni il mistero resta ancora assoluto. Lasciamo l'omicidio Vassallo per parlare sempre di altri argomenti, restiamo sulle pagine, però, della città di Salerno, e andiamo a leggere altre notizie di cronaca locale. San Gregorio Magno è morto, il pastore che risicò con un collega, Nicola Lordi, 63 anni, è deceduto all'ospedale di Salerno dopo due mesi in rianimazione per trauma cranico. Tragedia nei campi a Cicerare, mentre Tagli e Rami cade dall'albero e muore. A Vallo della Lucania, sistemazione di via Passero, c'è lo studio di fattibilità. Padula, due donne, nell'aggiunta imparato, direi che per Chiapardo e Cibino, che sarà anche vice sindaco. turista, salvato dall'annegamento a Palinuro. Poi ancora altre notizie in basso. Torchiana, Palazzo dei Concili, sta aperto da venerdì. Appolla, Ecologia e Lavoro, domani il convegno. Segnale Rai e Nuovelido, doppia petizione ad Ascea. Le vacanze anticamorra a Centola, di Don Merona, a Palinuro e Marina di Camerota, la terza edizione delle vacanze anticamorra, protagonista i ragazzi della fondazione di recupero minorine, a voce delle creature, diretta dal don Luigi Merola. I bambini vengono accolti dal sindaco Stanziola e dal vice d'Angelo. Queste erano le pagine di cronache della città di Salerno, ma andiamo invece a vedere cosa ci propone questa mattina cronache del salernitano. Si parte da Capaccio Pessum, le opposizioni portano il bilancio davanti al Tar, continuano le polemiche incontritoriali, consiglio comunale, i consiglieri minoranza, Cetta Pagano e Tarallo e De Caro non si accontentano di spiegazioni. Poi ancora, 68enne perde la vita travolto da un Audi sulla SS 95 e ha caduto sulle strade del Vallo di Diano, Borigerati, il tango, nei vicoli, questo è un altro evento in programma dal 30 al 3 luglio, ad Agropoli, invece la regione chiude la Malzoni, insorgono i sindaci, lettera aperta a De Luca da parte del primo cittadino di Castellabate. Questa era la cronaca, oggi apriamo la pagina sportiva, la apriamo partendo dalla Salernitana, Salernitana che avrebbe ufficializzato nella notte il nuovo allenatore, Salernitana tutto in una notte, passa la linea Simone Inzaghi. L'Otito ha incontrato Mezzaroma, Fiabbiani, il tecnico, nella tarda serata di ieri, sia lo staff allargato del giovane trainer, poi il contratto e il calcio mercato. Andiamo a leggere, rientrato dalla Francia, il patron ha convocato tutti per dare una svolta in giornata l'ufficialità. Intanto, tra le altre DB, il Benevento prenota bomber vantaggiato, Gattuso resta a Pisa, il Bari e in alto mare. Restando sulla Salernitana, il derby dei fratelli Inzaghi, Simone batte Pippo su Vitale, anche il tecnico del Venezia voleva il mancino della Ternana, ma già è in parola con i Granata. Ancora a Mezzaroma, l'assemblea della Serie B, pronta la riforma a 20 squadre, incontro fra società a Milano e progetto per la tecnologia e tra due anni riduzione del format. Questa era la pagina dedicata alla Salernitana, ora andiamo a leggere le questioni legate al Napoli attraverso le pagine sportive del mattino. Iguain boccia il progetto Napoli, poco ambizioso, addio nel 2018. L'annuncio del fratello manager Nicola, la società non commenta, il bomber non rinnoverà, la Juve vince, noi no. Acquisti per puntare allo scudetto, promessa che il club non ha mantenuto, conviene arrivare secondi, giocare in Champions, non si fa bella figura. Una squadra debole, una scusa per rompere l'intervista a Marco Materazzi, a gente FIFA, situazione delicata, la società ci pensi bene, il procuratore non sarà facile trattenere il giocatore, le offerte non gli mancano. Ancora Napoli, ancora Iguain, sul quale ci sono anche le sirene del Paris Saint-Germain in piena rivoluzione, ma ci sono anche le big inglesi. Dall'Arsenal al Chelsea di Conte, in Europa c'è gran richiesta, in spiaggia la traticomodilide del Ciolo Cimeone, il Bayern potrebbe sceglierlo come sostituto addirittura di Lewandowski. Questa è la situazione, le clausole di scissone, quella di Iguain di 94,7 milioni è quella che al momento imporrebbe lo stop ad eventuali trattative di rinnovamento. contrattuale. Intanto parla Ams, Icora non penso al futuro per la difesa ultimatum al Berger Maunieri, il capitano del Napoli ha parlato alla testata slovacca Sportsch per fare il punto sul momento dopo l'organizzazione alla Slovacchia. Si poteva fare qualcosa di più ma siamo orgogliosi di quanto realizzato, credo di aver disputato un buon torneo, sono felice che sia stato valore alle mie prestazioni. Queste le parole di Mare Chiaro. Poi ancora ferlimento Napoli, Ferlaino e Corbelli assolti in Cassazione, la sentenza per la compraventita del centro paradiso, nuovo processo in appello. queste erano le due pagine dedicate al Napoli, ora parliamo di nazionale, c'è un lento avvicinamento a quella che sarà la sfida di sabato sera in programma tra l'Italia e la Germania, quarti di finale del campionato europeo e spopola il contismo, un termine utilizzato per definire la persona di Conte e il modo di giocare delle squadre di Antonio Conte. Conte non cambia 3-5-2 vincente dentro Sturaro se De Rossi è out, il romanista a riposo dopo il colpo alla coscia oggi il primo test. Per De Canio che ha avuto Conte come vice allenatore al Siena dice Antonio ha il carisma del vero leader. Ancora sulla nazionale leggiamo i pretoriani del CT da parolo a Pellè la scommessa vinta il segreto del tecnico i suoi fedelissimi ed è imposto a tutti i costi il naziale apprezzato nel club diventa decisivo in azzurro. Rigenerati De Sciglio una prestazione super contro la Spagna Darmian entra e fa l'assist per quanto riguarda i quarti di finale si parte domani con la sfida Polonia-Portogallo poi venerdì Galles-Belgio per quanto riguarda la parte alta del tabellone poi ancora Germania-Italia sabato alle 21 mentre domenica c'è la cenerentola Islanda che dopo aver fatto fuori l'Inghilterra proverà ad avere la meglio anche sui padroni di casa della Francia bene noi con lo sport chiudiamo questa edizione della rassegna stampa ricordandovi che news e approfondimenti sono disponibili sul nostro sito web unotvweb.it l'appuntamento invece con l'informazione torna alle 13.45 con l'edizione pomeridiana del nostro telegiornale a me non resta altro che ringraziarvi per la cortesa e l'attenzione e augurarvi un buon proseguimento di giornata